Milano, Expo 2015, tecnologia, design e dinamismo si fondono per la nuova capitale del terzo millennio. Ne parliamo con Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, lifestylist. Buonasera. Guardavo la sedia. Cosa c'è? No, si capisce che è una sedia. Eh beh, sì, fortunatamente è una sedia. Non è di design. In che senso, scusi? Non capisco. Non so se si capisce che questa è una sedia. No, no. Così? No. Così? No. Così? No. Questo è design. Cioè? Vabbè. Se si capisce è una sedia. Se non si capisce. Design. Ho capito, adesso è chiaro. Va bene.